Dopo l'incontro pubblico del 29 giugno scorso l'amministrazione comunale di Fano passa alla fase successiva di sviluppo del progetto Stati Generali. Venerdì 23 ottobre nella Sala San Michele si terrà dalle ore 16.30 il nuovo incontro rivolto a tutta la cittadinanza durante il quale la Giunta comunicherà quali sono le proposte e chi ha deciso di rendere operative nei prossimi mesi. È un appuntamento importante a cui invitiamo la città e ovviamente tutti coloro che sono interessati a livello personale, istituzionale, come rappresentatività rispetto alle associazioni di riferimento perché è un secondo momento importante di dibattito dove esporremo il proseguo dei lavori ma registreremo ancora altri contributi provenienti dalla comunità locale. Durante l'incontro verranno illustrati anche progetti su cui il Comune si è impegnato dal piano strategico cittadino al programma edifici intelligenti dalla Smart City alle prossime consulte di quartiere. Vogliamo andare a un nuovo piano regolatore che superi i problemi di quello vigente che non riesce a funzionare per molti aspetti con parti che non si attuano eccetera eccetera. Allora però alla base di questo è necessario fare una riflessione cioè dire dove vuole andare a questa città, come si vuole trasformare, qual è l'idea di città, ecco per questo elemento fondamentale dire qual è l'idea di città è necessario adottare quello che si chiama piano strategico e gli stati generali del welfare sono un tassello importante di questo percorso, un lavoro già preavviato e quindi ci consentirà di arrivare più rapidamente avendo già uno strumento e già un'elaborazione al piano strategico che è la premessa per la nuova pianificazione.